oggi ragazzi sarebbe dovuta uscire la recensione di padre nostro film di claudio noce con pier francesco favino protagonista che non vedevo l'ora di vedere purtroppo ci sono state delle problematiche e tra poco vi racconto tutto che non mi han permesso di visionarlo e quindi ho dovuto sostituire quella visione con il giorno sbagliato altro film che avrei voluto vedere ma che ovviamente avevo messo dopo per quanto riguarda la lista dei film da recuperare in sala al primo posto c'era padre nostro però purtroppo non sono riuscito a vederlo e quindi oggi parleremo di il giorno sbagliato con la regia di derrick burth dunque sono arrivato al cinema dove vado sempre io vado a luci a bicocca quando sono qua a milano come ben saprete negli uci ci sono circa 25 minuti a volte mezz'ora di pubblicità da quando ovviamente i cinema sono stati riaperti la pubblicità è diminuita e dura circa un quarto d'ora 20 minuti il film doveva iniziare alle 19 e 25 io sono arrivato puntualissimo alle 19 e 25 pronto per fare i biglietti non potevo andare alle macchinette automatiche perché le macchinette automatiche almeno in quel cinema non sono i vostri non riconoscono la skin usi card che io possiedo e quindi per usufruire degli sconti che tale tesserina mi permette dovevo andare per forza in cassa una sola cassa aperta prima di me c'era in questa coppia questi due fidanzati ragazzo e ragazza e vi dico con estrema sincerità che mi han tenuto in fila fino alle 19 e 50 ragazzi 25 minuti in attesa per vedere due ragazzi senza alcuna offesa erano veramente larghi così per vedere due ragazzi che vengono al cinema per ordinare la cena io ero lì in fila e ho dovuto aspettare 25 minuti perché i due non contenti non solo si erano presi due barattoloni di popcorn di quelli proprio grossi hot dog con ketchup e maionese che quando la cassiera glieli stava porgendo il ragazzo si è anche lamentato è ma manca la maionese non solo quindi aspetta che gli hot dog siano pronti una volta consegnati si attende ancora perché avevano ordinato una pizza una pizza nel bar del cinema quando sei in un centro commerciale e hai a tua disposizione almeno cinque pizzerie cioè cose dell'altro mondo io per colpa di due persone che vengono al cinema per mangiare che mettano il cibo prima dell'arte non ho potuto vedere padre nostro poi fortuna vuole che iniziasse il giorno sbagliato alle 8.05 che fossi in tempo per recuperarlo altrimenti io me ne sarei andato perché due persone mi hanno dovuto tenere 25 minuti in coda per mangiare per mangiare ragazzi io non stavo più nella pelle avrei fatto un casino dell'ottanta ma mi sono trattenuto perché altrimenti avrei perso anche la visione successiva e visto che ero venuto a piedi che non mi andava di fare più di due chilometri avanti indietro senza aver visto niente sono andato a vedermi il giorno sbagliato ma con una rabbia addosso che non potete immaginare perché pensare che se non ci fosse stato il giorno sbagliato io sarei tornato a casa per colpa di due persone che vengono al cinema per mangiare che magari non danno nemmeno importanza al film perché il loro principale motivo per cui si erano recati lì era mangiare veramente questa cosa mi dava i nervi se poi ci mettete anche il fatto che senza nessuno tantissimi amici in sovrappeso senza contare il fatto che sia maschio che femmina fossero così erano due botolini quindi senza offesa ripeto quando vi trovate davanti la persona anche in sovrappeso che continua a chiedere sempre più cibo e te sei lì che vuoi andare in sala un pochino di ezechiele 25 17 ti sale e quindi ora io vi ho raccontato questo fatto in maniera educata però dovete immaginare nella mia testa in questo momento di rabbia visto che la recensione di oggi parla proprio anche di persone che hanno vissuto giornate sbagliate dovete capire che nella mia testa per un attimo la testa è andata in off si è spenta e nella mente sono partite le peggio penso cose che mente umana possa pensare io veramente mi vergogno di me stesso per quel che ho pensato in quel frangente ma penso che tutti nelle mie stesse nella mia stessa situazione situazione avreste pensato determinate cose comunque bando alle ciance siamo andati a vedere sono andata a vedere il giorno sbagliato di derrick bort con la consapevolezza che recupererò padre nostro nei prossimi giorni quindi pazientate che la recensione arriverà il giorno sbagliato io avevo visto i trailer si parla di quest'uomo russell crow doppiato da un grande luca ward ormai un russell crow in ball sito russell crow questo personaggio tom che praticamente ha avuto una giornata molto sbagliata una giornata che non vorrebbe più rivivere che si ritrova a discutere con un automobilista in macchina questa donna con il figlio e siccome questa donna non chiede scusa dopo un alterco automobilistico lui deciderà di farle passare la più brutta giornata della sua vita quindi il film già di per sé già vedendo il trailer avevo capito che si trattasse di un'americanata di una tamarrata tremenda e dovete sapere che io apprezzo anche le tamarrate a me piacciono anche quei film action che mi mostrano le peggio esagerazioni io lo sapete mi diverto con i fast and furious sono proprio quei film che magari si sa che non bisogna prendere sul serio che ti fanno divertire ti mostrano magari anche una buona azione e ti fanno uscire dalla sala con quell'adrenalina dentro pensando sì mamma mia che americanata ma anche come mi sono divertito il film ha un unico e grande problema la regia la regia e poi il problema forse ancora più grande è che il film vuole introdurre all'interno dei messaggi dei concetti che poi non verranno più sviluppati o per meglio dire verranno totalmente poi sviluppati in maniera tale da non aver più senso andiamo con ordine il film inizia con queste immagini non so se reali oppure no ricostruite comunque che mostrano la violenza in america si parla di violenza si parla del tasso di violenza che sta aumentando sempre di più e in questi momenti in cui la voce fuori campo ci racconta di questi episodi terribili questa stessa voce ci dice che non bisogna combattere l'inciviltà con altra inciviltà non si risponde alla violenza con altra violenza quindi inizialmente nelle sue premesse il film sembrava anche qualcosa in più del semplice film action sembrava anche un film che volesse sì esagerare esasperare una situazione piccola lieve per trasformarla in una situazione terribile ma con lo scopo di far capire che tante volte è meglio anche abbassare la testa e andare oltre perché anche ascoltando i telegiornali di tutti i giorni quante volte ci rendiamo conto che anche le peggiorisse le peggio cose sono partite per dei pretesti stupidi del tipo io cammino incrocio lo sguardo con un ragazzo questo siccome ci sono questi pazzi idioti nel mondo molto spesso è anche giusto visto i fatti di cronaca che purtroppo ogni giorno leggiamo è anche giusto magari a volte da persone intelligenti per salvaguardare noi stessi e chi abbiamo intorno dire ok andiamo oltre questo non vuol dire essere vigliacchi vuol dire essere intelligenti questo non vuol dire nemmeno che sia giusto farsi mettere i piedi in testa ma da persone intelligenti riconoscere quando è il momento di agire quando no ad esempio all'inizio del film ci mostravano delle liti per un clacson suonato per un semaforo non rispettato del tutto in quei casi lì ovviamente è inutile stare a litigare se tipo c'è la coda e uno cerca di superare senza riuscirci magari a volte si può anche trattenere un attimo la rabbia che abbiamo dentro e andare oltre per non creare situazioni spiacevoli quindi ho detto caspita questo film quindi mi vuol far capire che non vuol essere solo quell'action fracassone che pensavo fosse vedendo il trailer ma che vorrebbe anche farmi arrivare un messaggio importante vorrebbe sviluppare questo concetto il regista vuol farmi riflettere su questa cosa esagerando esasperando una situazione come quella che vi ho raccontato all'inizio della recensione cioè questa madre di famiglia separata dal marito che deve portare il figlio a scuola in ritardo al lavoro quindi anche a lei girano da morire si ritrova nell'ingorgo autostradale il semaforo è verde questo non parte quindi suona questo si arrabbia dice guardi se lei mi chiede scusa io la finisco qua ma siccome ho avuto una brutta giornata mi chieda scusa lei non chiede scusa e lui decide di farle passare la giornata più brutta di tutte siccome io ho detto caspita il regista ci vuol mettere anche qualcosa vuole esagerare il tutto mostrandomi questo ok ci sta anche il problema è che il film poi prende una strada totalmente diversa prende una strada che è cozza con tutto ciò che viene detto all'inizio perché chi ha visto il film sa bene che il finale uno dei più brutti che abbiamo visto ultimamente il finale insegna proprio quello che all'inizio viene tacciato come sbagliato non si risponde alla violenza con la violenza il film termina proprio con la violenza come risposta alla violenza non voglio fare spoiler ovviamente tra poco farò una parte dedicata ad essi però posso soffermarmi su tutte le altre cose che non vanno in questo film se voi mi doveste dire paolo ma è un film che annoia no è un film che tutto sommato fa volare l'ora e venti perché il film dura un'ora e venti la fa volare quell'ora e venti russell crowe nel ruolo di questo pazzo criminale che uccide tutti è bravo luca ward che lo doppia è ancora più bravo forse perché rende iconico il personaggio come ha sempre fatto il problema è che c'è una regia mediocre il film non riesce mai a farsi prendere sul serio e ragazzi non avrei mai voluto cercare del realismo in un film del genere ma nemmeno ritrovarmi di fronte ad un film che cozza con tutte le premesse fatte inizialmente e che ha bisogno di commentare ogni singola scena come se fosse una visione a prova di scemo perché io non so se ve ne siete resi conto guardando questo film ma sin dall'inizio il regista derrick burth decide di commentare ogni minima cosa di renderla esplicita come se lo spettatore non fosse capace di fare due più due di comprendere anche certi suggerimenti ma quanto è bello anche dare degli input allo spettatore e lasciar che sia lui stesso poi ad arrivare ad una conclusione piuttosto che servirgli tutto in maniera esplicita su un piatto d'argento il film inizia con questa donna che si alza in ritardo che ha un figlio da portare a scuola che rischia di essere messo in punizione che discute con il fratello perché il fratello sta lì in casa insieme alla compagna con cui sta per sposarsi e mancano i soldi quindi già dall'inizio capiamo che la vita di questa donna non è facile separata con un figlio a carico che è in ritardo al lavoro sempre le mancano i soldi capiamo che la situazione non è semplice non c'è bisogno che come esci di casa mi inquadri la macchina dei vicini altra ripresa altra inquadratura sulla loro macchina invece per far vedere le differenze con tanto di primo piano sulla targa della macchina dei vicini che lì per lì ti chiedi per quale motivo c'è questo primo piano così assurdo questo zoom sulla targa poi ci arriveremo dopo la nostra protagonista la madre che dice alla vicina è la tua macchina sì è la mia ti si addice è la tua vicina di casa cioè trovo un po assurdo che tu faccia questo ragionamento specialmente poi in un momento in cui sei in ritardo vabbè però questo deve servire a rendere a dare conferma allo spettatore che c'è differenza fra le due famiglie fra i vicini di casa ma l'abbiamo già capito cioè lo spettatore non è idiota arriviamo in macchina ovviamente riceve la telefonata la nostra protagonista che è stata licenziata perché è in ritardo non c'è bisogno cioè con questa telefonata fatta sentire in viva voce quando la telefonata non è in viva voce però noi dobbiamo sentirla lo stesso perché perché dobbiamo pensare caspita la protagonista è proprio sfortunata perché poi nel momento in cui troverai il maniaco noi dovremo tifare per lei dovremo dire però poverina questa qui ha avuto tante difficoltà ora anche questo maniaco che la insegue non c'è bisogno il bravo regista le cose te le fa capire senza il bisogno di esplicitare il tutto sì derrick bort avrà saputo dirigere bene qualche scena action ma mica in maniera sorprendente cioè a me non mi importa che ci sia dell'action girata bene se poi tutto il resto fa acqua perché il film qua lo fa russell crow lo fa russell crow che se fosse stato diretto da un regista capace avrebbe saputo brillare ancora di più si vede che russell crow va a briglia sciolta perché sa di essere un attore capace e quindi secondo me è più lui che ha dato delle direttive al regista che viceversa e poi continuano questi continui commenti siamo in macchina la mamma chiede qual è la strategia di fortnite che hai trovato con lo zio quando il bambino racconta alla madre la strategia di fortnite io ho detto stai a vedere che alla fine del film loro riusciranno a salvarsi la pelle seguendo la strategia di fortnite non l'avessi mai detto quando una cosa è così banale così telefonata che potresti uscire dalla sala sapendo già alla fine del film perché altrimenti ci sarebbe dovuta essere questa scena in cui per svariati secondi il figlio parla di fortnite parlando di una tecnica di difesa di fortnite con la madre che dice non me ne intendo ma la tua il tuo è un discorso molto intelligente quindi lo sapevo era prevedibile da morire e poi basta una volta portata a scuola ti prometto che alle 15 e 30 sarò qua e ti porterò il gelato con le praline più buono che tu abbia mai mangiato lo sappiamo che alle 15 e 30 non sarai mai lì perché sei stata licenziata perché hai un altro appuntamento lo sappiamo basta commentare tutto lo spettatore non è stupido suggeriscime delle cose in america msaico il gatto nel banco ma non ci viene esplicitato dobbiamo essere noi spettatori a capire se si tratti di follia oppure no basta lo spettatore non è stupido non è che se si io posso capire voi potreste dirmi paolo ma questo è un film rivolto soprattutto ad un certo target di pubblico non magari per te che sei abituato a vedere anche film d'autore l'ho capito ma anche il pubblico medio e generalista di cui tanto parliamo non vuol dire non vuol mica non deve per forza mica essere stupido cioè pubblico generalista o pubblico medio non è ovviamente risultato di pubblico stupido non vuol dire pubblico stupido anche il pubblico che magari va in sale una volta all'anno penso che sappia fare due più due cioè pubblico medio non è sinonimo di pubblico imbecille e quindi se te il regista mi commenti ogni cosa secondo me è anche offensivo nei confronti delle persone che si lasciano servire così lei che va a fare benzina dopo aver avuto questa discussione con il personaggio di russell crowe e nemmeno a farlo apposta inquadratura su lei che lascia il cellulare in un angolo della macchina lo sappiamo benissimo che quel cellulare non lo ritroverai più lì ed infatti il cellulare manca basta questo commentare qualsiasi cosa quando dopo un po nel film il nostro russell crowe ha cambiato automobile e per capire quale sia l'automobile vediamo questo zoom su questa targa che corrisponde allo zoom della targa dei vicini di casa ecco perché all'inizio hanno zoomato sulla targa dei vicini di casa per far capire che ora il maniaco ha rubato la macchina a loro cioè te il regista mi mostri film per commenti mi mostri le scene per commenti cioè ma io voglio arrivarci ma vi immaginate lo stesso film diretto da uno scorsese da un tarantino cioè a prova di ma di morte grind house con lo stuntman mike se lo mangia a colazione questo film eppure anche lì si parla di un folle omicida alla guida c'è basta ragazzi quindi se non bastassero tutti questi commenti arriva anche poi un finale perché potrei anche dire girate minimamente bene le scene action anche se anche lì ci sono delle cose che non stanno né in cielo né in terra sei nell'ingorgo stradale questo da dietro con il pick up che continua a tamponarti e le macchine intorno che non si accorgono di niente questo che ha rubato il cellulare alla nostra protagonista e fa un bonifico all'ex marito nel giro di due secondi cioè io non so voi se da cellulare vi sia mai passato per la testa di fare dei bonifici aprire l'app aspettare che si carichi ci sarà un codice della carta di credito da inserire niente questo mentre parla al telefono con lei mentre guida riesce a fare due bonifici al marito mentre guida con il cellulare di un'estrania senza sapere il suo codice in due secondi roba che in due secondi a me nemmeno mi si è acceso il cellulare robe dell'altro mondo ma va bene ci sono delle forzature ok ma non mi fare un finale così io ora non voglio rivelarvi niente anzi vi anticipo che fra un attimo farò spoiler quindi se non volete sapere come va a finire il film chiudete qua il video altrimenti continuate a seguirmi anzi ve lo dico da ora spoilererò quindi 1 2 3 lo spoiler arriva da te ok io vado il finale termina con lei che seguendo la strategia di fortnite in casa della nonna riesce ad uccidere il maniaco dopo che ha ammazzato tutte le persone a lei care con delle forbici piantate in un occhio e dopo aver detto la frase retorica d'effetto queste sono le tue fottute garbate scuse una cosa del genere la solita frase vabbè le dà gli dà un calcio sulle forbici già piantate nell'occhio che gli trapassa nel cervello e lui muore all'inizio il film vuol partire con il concetto che sia sbagliato rispondere alla violenza con altra violenza e te mi fai finire il film con la violenza come risposta alla violenza ma per quale motivo hai dovuto esprimere allora quel concetto all'inizio fammi sin da subito un fin caciarone io non pretendevo mica il fin concettuale ma se all'inizio mi fai capire che non si risponde all'inciviltà con altra inciviltà che sia sbagliato comportarsi in certi modi e poi fai sì che questa donna uccida il suo carnefice a botte in maniera proprio crudele beh cazzo non torna fammi subito un film che vuole essere fracassone che vuole essere caciarone che vuole essere tamarro e a me mi sta bene anzi avrei gradito ancora più splatter ma se mi fai un film dove anche minimamente mi mostri un concetto che poi non sviluppi io mi cazzo mi sento preso per il culo perché non mi puoi far iniziare un film con questo concetto e poi farlo terminare con il concetto totalmente mal sviluppato che cozza con ciò che è stato detto all'inizio cioè quando io guardo fast and furious guardo dei film tamarri non film che pretendano di farmi riflettere in questo caso ter del regista cerchi di inserire un concetto che poi non sai sviluppare e la cosa ancora più brutta è che vabbè la cosa fuori dal mondo la polizia vada pure signora è tutto finito come se io fossi stato aggredito picchiato hanno ammazzato tutti i miei vicini io ho accoltellato una persona trafiggendo nel cervello e la polizia mi dicesse vada pure signora cazzo in caserma portatela qualche visita medica vada pure signora sì sì è solo morta sua madre suo padre suo figlio sua nonna sua zia il suo bisnonno cioè sono morti tutti vada pure signora vada con suo figlio vada pure vada pure questi vanno via come la famigliola del mulino bianco dopo che è successo il diavolo a quattro con questo morto in casa della madre cioè questo morto in casa della madre della protagonista ci porta una bella sigla vanno ad un semaforo ad un incrocio non ricordo un'altra macchina taglia la strada rischio di incidente mortale lei fa personare tira la mano indietro con il figlio brava mamma hai fatto la scelta giusta cioè quindi voi vorrete vorreste dirmi che il film termina con la consapevolezza che sia giusto rispondere alla violenza con la violenza ed effettivamente termina anche con il messaggio che sia giusto abbassare la testa in dei momenti in cui non è giusto farlo perché io all'inizio l'ho detto è giusto a volte da persone intelligenti dire tratteniamo un attimo la rabbia andiamo oltre ma in un momento in cui stai per fare un incidente mortale perché se la macchina fosse fosse andata avanti avesse proseguito ci sarebbe stato un frontale tremendo che mi vuoi dire che sia sbagliato suonare alla persona che ha fatto ciò e quindi è giusto far sì che l'inciviltà prenda il sopravvento quindi mi cozzi totalmente i due messaggi del film che all'inizio invece mi presenti come motori portanti della pellicola tutto va a cozzare è giusto far così caspita sono il prima dire che in certi momenti è giusto abbassare la testa ma non in questo perché se no mi fai finire il film con la consapevolezza che è giusto rispondere alla violenza con un'altra violenza e che sia giusto farsi mettere i piedi in testa e far vincere l'inciviltà cioè io veramente non ho parole poi vabbè ripeto il film è un concentrato di assurdità questa sin dall'inizio sarebbe potuta andare dalla polizia va dalla poi invece no la chiama dopo mezz'ora vai dalla polizia e chiuditi in caserma questo continua a ricattarti telefonicamente bene ma tu sei dalla polizia tanto avrebbe ammazzato lo stesso le persone vai dalla polizia e io veramente non capisco polizia che ci mette sempre due ore arrivanne posti lui in un attimo riesce a seguire lei tramite ipad la segue la insegue la polizia che dovrebbe avere tutti i mezzi sono in 300.000 non ce la fanno a prenderne uno uno un botolo così non ce la fanno a prenderlo capisco le forzature cinematografiche che servono per mandare avanti la trama però ad un certo punto il troppo stroppia quindi sono rimasto molto deluso dalla pellicola mi aspettavo un film tamarro ignorante e vi giuro che se così fosse stato io mi sarei divertito e l'avrei lodato perché sapete che a me questo tipo di film piacciono questi tipi di piacciono il problema è che il film cozza tutto cozza tutte le premesse derrick bort non riesce secondo me ad essere un regista capace perché fa solo che fa solo un gran casino si attorciglia su se stesso e tira fuori un concentrato di banalità di messaggi che arrivano male di sequenze commentate per il pubblico stupido e quindi la sceneggiatura di carl ellisworth lascia insoddisfatti è un film che non ha mordente che ogni cosa buona che sembrerebbe presentare non ha poi uno sviluppo consono e quindi nulla peccato il giorno sbagliato è stato proprio il mio vabbè comunque si è visto anche questo fatemi sapere la vostra nei commenti che sarò molto 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 curioso di leggervi e di rispondere a ciò che scriverete vi ricordo che nelle info troverete anche il link alla mia pagina facebook al al mio profilo instagram seguitemi lasciate like condividete noi ci vediamo alla prossima recensione felice che questo film stia avendo successo al box office in un periodo in cui il cinema ha bisogno di guadagnare però non mi ha lasciato veramente niente se non un grande punto interrogativo e un grande che ho esclamato dopo che sono uscito dal cinema un saluto ragazzi alla prossima recensione ciao 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 ciao